Per l'Aquila Calcio non ci sono prove d'appello. L'obiettivo è vincere il campionato per recuperare subito la Lega Pro dopo una retrocessione amara. Il suo dalizio rosso-blu è stato chiaro. La scelta di Mr. Massim Morgia lo testimonia. Uno staff tecnico di prim'ordine e una squadra composta da tanti uomini di Mr. Morgia che con lui hanno vinto campionati e ottimi under, molti dei quali provenienti dalla Berretti Rosso-Blu. Ma alla squadra, che comunque è stata buona impressione nelle prime uscite amichevoli, manca ancora qualcosa e il presidente Chiodi ha chiarito che si faranno ulteriori acquisti nei prossimi giorni per arrivare completi a Coppa e campionato. Domenica prossima infatti si va a Viterbo per affrontare il Monte Rosi, con pagine che poi l'11 rosso-blu si ritroverà anche il 4 settembre per la prima di campionato in casa. Il Genone F sembra più abbordabile rispetto agli altri, con molte trasferte in Sardegna, ma comunque ci sono squadre ben attrezzate, un esempio la formazione del Rieti. E poi sarà di nuovo a Derby dopo tanti anni con l'Avezzano. Dal punto di vista societario, a giorni verranno ufficializzati nuovi soci, che entreranno con il 5%, mentre si continua a lavorare per avere lo stadio d'Acqua Santa entro il mese di settembre. A giorni verrà siglata la convenzione per l'affidamento e sembrano superati anche gli altri problemi. Del resto anche l'allenatore aquilano si è esposto in prima persona per il nuovo stadio. O lo stadio o vado via e conoscendo il carisma di Morgia, questa non è solo una provocazione. Unità di intenti che sembra essere alla base quest'anno e anche un gruppo che già appare affiatato. Allenatore in seconda, Federissimo di Morgia, Michele Coppola, preparatore dei portieri, Angelo Porracchio, che ben sta lavorando, preparatori atletici qualificati, e mister Renato Greco, che allenerà la Lignores, ex giocatore anche lui di Morgia, che si allena regolarmente con la prima squadra. Mancano ancora tasselli, poi ci sarà la presentazione, sperando di ricucire con i tifosi un rapporto essenziale.